Dal 1972, ogni 5 giugno, si celebra la giornata mondiale dell'ambiente ideata dalle Nazioni Unite. Tema di quest'anno è il ripristino del territorio sulla desertificazione e sulla resilienza alla siccità. Marche Multiservizi, anche attraverso il suo bilancio di sostenibilità, ricorda come pianeta, persone e prosperità siano il paradigma che guida la propria azione, che richiede soprattutto una politica di resilienza al cambiamento climatico. Il cambiamento climatico che è ormai arrivato da tanto, ce ne dobbiamo rendere conto e dobbiamo essere tutti quanti bravi a essere capaci di procedere ad un adattamento e a creare una resilienza delle nostre infrastrutture rispetto a questo cambiamento. Questo vale dal punto di vista ambientale nel suo insieme, vale per i rifiuti, vale per la risorsa idrica, vale per l'energia. Credo che l'Agenda ONU veramente ci abbia fissato dei punti importanti su quelli che sono i gol che dobbiamo perseguire e vanno sicuramente nella direzione di ottimizzare l'uso delle risorse, sia energetica che materiale, perché comunque sono risorse finite. Tutela dell'ambiente e sostenibilità che passano innanzitutto dalla gestione del servizio idrico. In 15 anni abbiamo investito sul ciclo idrico 180 milioni di euro e oltre, di cui circa il 60% e quindi quasi 100 milioni di euro sulla fognatura e depurazione. Oggi qua siamo nell'impianto di depurazione di Borgeria, che è stato tutto modernato e potenziato proprio alcuni anni fa, con un investimento di circa 25 milioni di euro. Se poi guardiamo tutta l'asta del fiume Foglia abbiamo investito quasi 50 milioni di euro e questo credo che dia la possibilità al fiume di avere una vita e essere più sano e salubre e questo beneficio anche di quello che è la balneazione e che poi è una fonte di turismo anche per il territorio pesarese. Siamo in un territorio, come tante altre regioni italiane, sotto infrazione comunitaria e quindi dobbiamo uscire da questa infrazione. Il nostro impegno di uscire è entro il 2025, dovremmo impegnarci ancora con altri 10 milioni di euro di investimento in questa direzione. Risorsa idrica che diventa tema centrale di ogni estate per la difficoltà ormai cronica di approvvigionamento d'acqua nel nostro territorio. Carenze che inducono a ragionamenti di interventi strutturali, come quello degli invasi, per mitigare questi rischi. Però dobbiamo arrivare a prendere delle scelte e delle decisioni che siano dal punto di vista strategico importanti che richiedono poi grossi investimenti, richiedono anche tempi abbastanza lunghi. Però credo che sia un aspetto fondamentale perché sappiamo tutti che senza acqua non c'è vita e conseguentemente credo che il nostro impegno deve andare in questa direzione. Noi che cosa stiamo facendo? Stiamo facendo, credo, molto bene da nostra parte dal punto di vista ambientale. Ho parlato dell'acqua ma vorrei parlare anche dei rifiuti. Siamo arrivati al 73% di raccolta differenziata di cui il 93% comunque va a recupero. Quindi il nostro impegno c'è. Proseguiamo in questa direzione. Stiamo lavorando molto anche con i giovani. Abbiamo alcuni progetti fatti in tutti questi anni con le scuole. L'ambiente non è solo di chi ci lavora ma l'ambiente è di tutti. Tutti i cittadini, tutti quelli che vivono in un territorio, in un contesto territoriale ovviamente con tanti piccoli gesti possono contribuire ad avere un miglior ambiente e la si ha anche i nostri figli e le nuove generazioni.